Musica Ciao ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video Questo video è per dirvi una cosa Allora Stavo guardando dei video di Michael Jackson E è uscito un video dove faceva vedere i suoi figli E c'era una foto Che adesso vi faccio vedere Guardate Ecco Questa foto Vedete questa è la sua figlia Quella più piccola Mi assomiglia tantissimo Cioè in quella foto mi assomiglia Secondo me mi assomiglia Ditemi voi nei commenti Se secondo voi mi assomiglia E' stranissimo però Un pochino mi assomiglia Cioè Ragazzi Ecco mi assomiglia diciamo Un pochino Sì E ecco Vi lascio la foto E mi assomiglia Ragazzi Avete visto le foto Che secondo voi Un pochino mi assomiglia Fatemelo sapere Giù nei commenti Lasciate un bel like A questo video Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Ok Ciao Magari potrei essere la sua sosia Ciao Ciao